RETURN TO DREAMLAND Amicizia e l'unione fanno la forza Quindi se avete degli amici Forse potete affrontare la lotta finale Insieme a degli amici Altrimenti fatela da solo come a me Amma mia Quindi possiamo solo andare avanti Non possiamo andare indietro Va bene Ci sta Devo stare attento però E che Allora Sì vabbè Rifornimenti però se mi faccio colpire Niente via basta basta Uccilo Andato Ok Non posso distruggere mi pare di capire No Non posso proprio Però questo si posso Ah devo Certo Devo spararmi Aia Che dolore No No dai Ci vado a perdere qui No eh Sarebbe proprio da Stupido morire in questa maniera Wow Sta parte è tosta Oddio Che è questo mo Così grosso Oh grazie Che mi fa ricaricare Un bel po' di punti Grazie mille Il gioco Visto che non posso Usare souvenir Ecco qua Magolor Va Ho detto che era lui Il nemico finale Che ci ho azzeccato Ma devo sconfiggere la barca No sto premendo Il pulsante B Per attaccare Nel frattempo Ah l'oro Immagolor Ok Anche io posso Caricare l'attacco Bene Oh cielo Wow Come ne esco Come ne esco Mannaggia Non so se li faccio più male così O con l'attacco caricato No ok Un po' ripreso Mannaggia A me Aia E vabbè Wow Non so come L'ho evitato Ma va bene Eh sì Mo' li faccio prendi Secondo te no Ah ok Questa era tosse Per evitare Vai Distrutta Vai distrutta Vai Una Vai Ah, 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 ah. Ah, ed eccoci quindi anche contro Magolor. Tutti i poteri abbiamo, scelgo il mecha, penso sia quello più adatto, non lo so, vediamo come va. Grazie a tutti. Non ho idea di cosa io stio facendo, se lo sto facendo bene o se lo sto facendo male, so solo che lo sto attaccando con tutte le mie forze, con tutto quello che ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ho capito. Eh beh, certo. Va bene, è eliminata anche quella. No, Magolor, dove sei? Eccolo qua. E uno. Due. Ah, certo, me lo deve levare, no? Ha anche ragione, direi. No, vabbè, ho fatto, ok, aspetta, ok, bene, l'ho comunque preso. Ah, sfera di energia non mi piace molto però. Vabbè, vabbè, devo per forza usare questo, dai, non c'è altra soluzione. Devo stare attento a questo, dai, non c'è altra soluzione. Devo stare attento a queste mani di succhia. Eccolo, bene. Ok, ora che fa, me lo toglie? Eh sì, me lo deve togliere. Mi chiedo se, essendo abbastanza veloce, riuscirei a prenderlo. Eccolo qua, andato. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eh, amico mio, che ti faccio? Pensavo facesse un'altra cosa. Ok, cosa fa, cosa fa? Ah, è lui che vora? Allora, facciamo un po' questo Il bipietra non è quello che speravo, ma ok Che cos'è mo' questo? Eh? Ah, ok Allora, un attimino questo mi prendo, che mi serve Ok Mannaggia L'ultimo revitalizzante Poi passerà a Pomodoro Ah, yeah Ah, io l'ulto Andato Ah, io l'ultimo 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 Ah, io l'ultimo